musica ok intanto cominciamo a raccogliere parecchie cose perché sicuramente qualcosa succederà proseguiamo di qua proseguiamo di qua ok chirurgia emergenza cansello forza e coraggio qua sotto si muore quindi si va di qua per forza donna che luce fiacca che c'ha mette paura mette troppa paura eh no aspetta e spera vedrei tra un po' sicuramente ci sarà qualcosa di veramente macabro ne sono sicuro unità terapia intensiva ovviamente abbandonata chiusa ovvio sarebbe troppo facile eh già ok chirurgia o emergenze qua non ci si può buttare di sotto chirurgia o emergenze ma dov'è la chirurgia dove sono le emergenze amministrazione finanzia e marketing su non si va da qua ci siamo arrivati eh si fa già tosta la situazione che fa mo di sotto non mi posso lanciare oddio no volendo però si 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 ok ok no perchè lei sta fra di vertigini e dondola un botto qua che c'è cappella cappella non ridere non ridere il centro emergenze è lì cesso quarantena pronto soccorso la porta deve stare sempre chiusa ma noi prima di aprirla ci facciamo un giretto qua dentro dentro la cappella vediamo se qualcosa lo troviamo intanto abbiamo l'alcol ci servono le cartucce incendiare ragazzi le cartucce allora qua che c'è il giorno del contagio è stato un incubo ma va lei è ancora nata commolizione al massimo esplosivo manca l'alcol raga spero non ce la farei pure ok apriamo la porta allora maschera raga ho paura pronto soccorso vi prego datemi qualcosa eh questo non è un bel segnale munizioni di pistola da caccia vuoto ok abbiamo un alcol ok non mi serve adesso non mi serve ah esplosivo bene così munizioni zona ambulante drop off e check in ambulanze sorry centro emergenze centro emergenze lama integratori quanti siamo 47 qualcosa si potrebbe fare si ah va bene tanto vanno fatte tutte come dico sempre quindi andiamo con questa chirurgia perfetta no via vi sento ehm cos'è che cazzo è non mi dire che è il rat king non mi dire che è il rat king no raga rat king no oddio oddio mi dire che passa attraverso i funghi perché non ci credo io ho paura sono tre clicker sei magrissimi miseri integratori cazzo questa zona è ancora infestata dai mostri ok una porta alla volta allora non c'è elettricità bene così deve esserci un generatore da qualche bar bisogna seguire allora i i cavi forse ecco il generatore lo sapevo magari ci fosse lab con me o manny si eh già quanti pezzi nove tanto non c'è corrente quindi sicuramente non ci sarà neanche un tavolo invece c'è nove pezzi ok benzina pezzi manca l'alcol qua però funziona la corrente che cazzo oh 101 pezzi un botto c'è qualcosa da 50 la minima è 60 sto guardando no due da 50 ci sono stabilità e capacità così abbiamo finito di potenziare è buona no aspetta 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 zio non è revolver che voglio voglio questa ok direi che ci siamo di più non possiamo fare ok qui c'è il generatore quindi deduco che debba essere acceso magari portasse anche un po' di luce sarebbe male no porta solo la corrente alle porte è fantastico come me ne vorrei scappare raga evitare tutti quelli però aspetta 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 oh ne dovrei andare qui anzi neanche niente devo per forza tornare indietro ragazzi ho già saltato alla corrente ecco se sono aperti da soli sapevo che fai non li vuoi tre clicker allora una soluzione potrebbe essere per esempio il lancia fiamme il lancia fiamme muori e muori oh il lancia fiamme ha funzionato ha male estremi estremi rimedi ragazzi queste avevano le scorte 18 integratori ne abbiamo 31 il minimo è 30 15 bombe tubo migliorate più ore di impatto per quando incontreremo il rat king sarà perfetto allora ci fosse un po' di benzina schifo non mi farebbe tu mi fai molto schifo invece che fai non li crei altri pugnali certo che li crei questo alcol però raga quale vado o questa magazzino mettiamo di soppiatto non si sa mai qua ah già aperto sono un coglione perché non li prendi no vuoto sapevo che diamine deve pure esserci qualcos'altro nastro eh spiegato il colpo vai come cambiare arma adesso l'alcol l'abbiamo quindi andiamo con le bombe e trovassimo altro alcol potrei fare anche qualche cartuccia esplosiva altrimenti poco da fare integratori siamo a 22 stiamo recuperando abbastanza ho paura a che non mi dai direttamente niente grazie o forse è perché ok e adesso ho già usufruito può darsi adesso usciamo raga ho paura siamo già passati qui Gesù super Gesù lo dico io c'è nulla qui la bottiglia kit medico magari c'è ma prima ci saranno no interminabili vette da scalare qui dove mi sono andata a cacciare anche te però per salvare una cazzo di jena pensa te meno male te lo dici da sola sto continuando a ricontrollare raga scusate che cazzo è stato siamo nel garage niente panico prendi le scorte e scappa a trovarle però ovviamente sempre l'alcol che manca l'appello di munizione di fucile però sono buone no raga troppo creepy troppo dove è sta ambulanza questo è un bus penitenziario qua sopra c'è meno di zero e l'ambulanza è lì ma del resto non c'è veramente niente e bingo aspetta aspetta eh bingo eh praticamente come quando il left behind si doveva andare a prendere nel medicinale per joel perlmeno ricalca molto quel punto di storia lì blotter o ratking mi sa ratking ragazzi merda merda c'hanno anche altre cose da prendere via 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 esci via via scappa Abby si sicuramente sicuramente spuccherà fuori qualche altro infetto sicuramente succederà che cazzo vado di qua oh merda raga sicuramente spuntila dall'altra parte merda di qua e risiamo dove prima non posso combattere non curito io ragazzi di qua no bene via una testa addirittura giù nel garage non ho minimamente danneggiato non ho minimamente danneggiato ragazzi facciamo una cosa tanto tutta la benzina che ho un corpo via anzi neanche il corpo sulle spalle ok benzina finita proseguiamo con con sto cazzo perché qua non c'è via d'uscita ok uno due tre quattro eh mi sono andato anche da solo bravo Adri adesso l'apre il varco lì via c'è c'è altra benzina dov'è lì via altra benzina aspetta che succede pensavo stesse morendo ok adesso che si è staccato lui si va si va di qui si va di qui si va di qui c'è ancora c'è ancora della benzina in corpo forse vabbè la usiamo fucile a pompa è troppo vicino c'è da scappare qua dentro ok finito i colpi magari poi c'è un altro che ne so scodo dov'è sta merda dov'è non è ancora finita anzi è molto lontana dal finire dov'è lo sento dietro di me via cazzo non c'è neanche tempo e spazio per curarmi questo è la merda ok forse questo bene così ma con cosa sparo un altro che si stacca o muore è morto raga è morto ok mo lo troviamo tranquilli ho battuto il rat king ragazzi ho battuto il rat king inaspettatamente tra l'altro bene ora sta calma sta calma adesso tutto finito exit invece non li metti altri infetti ovvio che li metti cosa posso creare una bomba pugnale no manca alcol per le cartucce esplosive ovviamente l'uscita sarà quella sicuro è per forza me l'ha indicata l'infetto giustamente c'è nulla sono una misera e inutile lama ok finchè si fanno i cazzi loro mi mostrano la strada a me va bene il problema è poi quello che c'è dopo vedrai come mi viene di soppiatto vedrai 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 vedete come me lo ritrovo davanti sapevo ma bastardissimo sparito pugnale pugnale curati prima che sia troppo tardi spugnale via e vabbè allora sei stronzo però niente vi è un altro kit medico che cazzo però qua c'è una munizione adesso ragioniamo sul serio carica il fucile e fai vedere chi comanda non muore manco per sbaglio raga e ste onde energetiche ste palle di pokemon che lancia godo vaffanculo oh finita qui che bello che roba due alcol oh tanto un kit medico subito poi dopo vediamo quello era il rimasuglio del rat king perché mi ha aperto il coso di share dai su c'è tutta sta roba per un cazzo di kit medico 20 integratori no 50 anzi no 42 ecco la robustezza dei silenziatori vabbè aspetta i 50 sotto il cazzo qua che c'hai? pezzi 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 16 qua dovrebbe passare dritto per dritto allora ci facciamo una piccola ispezione anche se non penso ci sia altro qua dentro magari qualche infetto me lo aspetto sicuramente sapevo già me l'hanno dato troppo ce lo facciamo sta fuori eh respiro profondo l'ho fatto io altro che spero che gli ara stia bene ok Lev Lev eh merda ti stanno cercando tutti cosa hai fatto? niente ti avevo detto di aspettare e come? i tuoi amichetti sono ovunque hai quello che ci serve? sì dobbiamo solo capire come andarcene una barca seguimi vabbè abbiamo già fatto anche con Ellie questa cosa oh qualcosa di tranquillo forse adesso come minimo finisce la benzina ne sono sicuro lei è eterna fine della cazzina siamo all'acquario eh sì